Una comunità ferita per via del terremoto e del maltempo, ma che con dignità e orgoglio non si lascia abbattere. E a volte i miracoli accadono. Come è successo a Nerito di Crognaleto, dove è arrivata quella che il sindaco ha definito una vera e propria mana dal cielo, con la realizzazione di una nuova scuola vista l'inagibilità della propria, donata da Ikea, che tempo permettendo sarà realizzata in poche settimane. Oggi posiamo la prima pietra di una struttura importante. La scuola è una cerniera che garantisce la vivibilità di un territorio. Io ho avuto due plessi scolastici danneggiati in tipologia E, quindi una ricostruzione completa. Con la filiera del Sisma, il progetto Errani, ricostruiremo Tottea a settembre, ma la vera vittoria è quella che già a fine mese di maggio riusciamo ad avere una scuola nuova. Il donatore Ikea è stata una manna venuta dal cielo che ci dà un sospiro forte, non solo al sindaco, non solo all'amministrazione, ma soprattutto ai bambini, che sono la filiera istituzionale vera. Una scuola nuova, entro maggio, è una prospettiva che intanto consente di affrontare anche qualche piccola sofferenza che è ancora in corso, e poi soprattutto di progettare un futuro anche scolastico, molto più sereno e secondo me produttivo, perché i bambini, i ragazzi e i docenti sono già nella prospettiva di sfruttare questa scuola al massimo delle sue potenzialità. L'obiettivo è di costruire questa scuola in 40 giorni, dunque di essere pronti entro fine maggio, con un progetto veramente molto bello, caratteristico, che porti anche un po' di svedesità all'interno del contesto del paese. Un dono che la popolazione di Cronialeto deve non soltanto all'azienda, ma anche ai lavoratori stessi? Esatto, è stato un pensiero a cavallo di Natale dove i nostri 7.000 dipendenti hanno pensato di devolvere il loro regalo di Natale alla popolazione di Cronialeto, dunque penso sia sicuramente un bellissimo gesto da parte di 7.000 colleghi che ci sono all'interno del mondo Ikea. C'è stato tutto l'impegno, anche da parte dell'amministrazione, oltre che del donatore Ikea, che noi ringraziamo, c'è stato tutto l'impegno ad aprire questa scuola prima del termine delle lezioni, perché è un messaggio importante, di ripresa immediata. C'era bisogno, anche se per soltanto un paio di settimane, cominciare a stare in una scuola e finire l'anno lì. Grazie.